Che fai a Natale? Te lo dico Massimo, non ti aspettare discorsi intellettuali o cose simili. Figurati anzi sarà forse il primo Natale umano della mia vita. Saura! Ma quello chi è? È mio padre. Che cazzo fai nella vita? Mi occupo di microcredito. Ma vaffanbua! Mamma, ma veramente aveva messa? Che me vuoi togliere pure l'ultimo schvago? Stai capito che sta a casa? Sta di là, di là! Che bello, finalmente! Se incomincia con la ghiandola telebra. Prego signorino, vieni. Il Natale è un brand allegro, non ve li giù. Sì, papà. Sai cosa sarebbe fantastico? E' un'entrata spettacolare! Filippino che si butta dal terzo piano vestito da Babbo Natale. Facciamo un minuto di silenzio, poi chi se la sente inizia con gli antipasti. Io sono incinta di lui! Fermatela, vi prego! A Natale la gente svalvola. Bastardo merda, andiamo in un po'. Qua è una guerra, eh! Lì, lì, lì! Sarà un'ecatombe. Dì, lì, lì! Spurchia! Gianni! Questo comincia io? Che meraviglioso Natale questo qui! Dai, eh! Siete pronti? Io mi metto a urlare fortissimo. Papà, perdonami, non resisto. Hai mangiato, hai giocato. Molte bevibura agrappa colato. Dià la verità, vorresti questa serata non finisce mai, eh!